Noi a differenza di Grillo andiamo in streaming nelle nostre riunioni interne e non quando ci sono gli ospiti per buona educazione. Loro hanno ribaltato il concetto di buona educazione e quindi pretendono streaming che pazientemente si dà quando si incontra con gli altri. Quando fanno le riunioni loro non se ne sa nulla. E aggiungo anche come ho avuto modo di dire fuori dallo streaming quando abbiamo avuto l'incontro c'è stato un fuorionda nel quale io ho detto guardate che c'è un tema che si chiama democrazia. Voi continuate a dire finanziamento dei partiti. Ok, io sono pronto a discutere. Sono pronto a discutere il superamento del finanziamento pubblico secondo Formule Che. Voi siete pronti a discutere in quella stessa legge di mettere meccanismi di trasparenza esigibile, formazione di gruppi dirigenti, codici interne, democrazia interna eccetera. Perché i partiti, dice la Costituzione, non lo dico io, lo dice la Costituzione, sono gli strumenti attraverso i quali i cittadini concorrono con metodo democratico alla conduzione della cosa pubblica. Siamo disposti a fare un ragionamento così col Movimento 5 Stelle? Attenzione, una cosa che riguarda anche la democrazia, sono tanti giovani che seguono questo. E la risposta qual è stata? Tanti giovani, diciamo così molto interlocutoria se devo essere così.